Perché dovete notarmi? Perché sono l'unica discontinuità col passato. Sapete perché? Perché sono una donna. Qui non siamo sul passato. Vi dico una cosa molto banale. I programmi forse si assomigliano. Ma le persone fanno la differenza. Le persone che sono con me sono preparate, sono oneste, sono serie, sono trasparenti. Io rivendico questo per la mia lista, per le persone che sono con me. Se non avete problemi potete dirlo anche voi. E quindi votate la vita una sola comunità. Grazie.